La data della prossima Leopolda è già fissata per il 4 e il 6 novembre. Ancora una volta l'evento si tiene a Firenze, ma questa edizione forse sarà la più importante di sempre. Dall'ex stazione Leopolda Renzi lancerà infatti la sfida finale per tentare di vincere il referendum costituzionale del 4 dicembre, un risultato decisivo per la vita del governo. Il referendum, ha comunque affermato il premio, è sul futuro del paese e non sul mio, ed è tornato all'attacco di Massimo D'Alema che sostiene il no e che era stato criticato anche dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Luca Lotti. D'Alema ha detto il premier, usa il referendum per rientrare in partita, vota no convinto di poter rappresentare il futuro. Il governo ha assicurato sta facendo cose che sono state rinviate per 20-30 anni. È vero che D'Alema è contro, ma questa non è una discussione dentro il PD, c'è gente di destra ma anche di Grillo che voteranno sì. Chi vuole meno costi è chiamato ad una domanda secca. Si può discutere se i risparmi sono 50 o 500 milioni, ma comunque nessuno mette in discussione che c'è una riduzione dei costi. Il premier torna anche sul nodo del titolo quinto. La riforma del titolo quinto ha creato caos istituzionale. Ha detto, intanto, domani pomeriggio alle 6 a Firenze, il presidente del Consiglio illustrerà tutti i contenuti del provvedimento del DDL Cinema, approvato a maggioranza al Senato e ora passato alla Camera e quanto fatto dal governo negli ultimi due anni per i cinema italiani. Lo ha annunciato il ministro Franceschini, che sarà con lui a Firenze, e che ha parlato di un grande risultato che rafforza notevolmente l'investimento dello Stato in un settore così strategico e introduce meccanismi chiari di attribuzione degli incentivi.